Una collaborazione importante, quella tra la Fondazione Tercas e il COPE, che inizia da oggi con una bella firma. Sì, è importante soprattutto perché va a intervenire su quegli aspetti strutturali degli enti del terzo settore che spesso la partecipazione ai bandi non permette di modificare. I bandi in genere fotografano un'esigenza temporanea, fotografano, potremmo dire, un'urgenza del territorio. Attraverso una progettazione più complessa e l'accesso a fondi importanti noi possiamo lavorare a lungo termine, cioè strutturando in maniera più efficiente i nostri enti del terzo settore. Siamo a fine anno e anche tempo di bilanci. Proprio nel campo del terzo settore la Fondazione Tercas possiamo dire che si è mobilitata in questo anno? Assolutamente sì. Noi dobbiamo dire un grazie a tutti gli enti, alle migliaia di volontari che hanno costituito davvero una rete sociale. Io ritengo che se in Italia non ci sono state quelle esplosioni di rabbia sociale che abbiamo visto in altri paesi europei, tutto ciò è dovuto veramente alla presenza sul territorio di una rete che identifica il bisogno, riesce a dare una risposta veloce e soprattutto personalizzata. Andiamo sempre di più rispetto alle fragilità verso una risposta al bisogno del singolo che non può essere incamerata in una legislazione, ma è legata alla situazione, allo Stato, all'esigenza. E quindi questo rapporto personale che si crea tra i volontari e la persona che in quel momento è fragile è un tesoro, un patrimonio che nessuno mai potrà sostituire. Inizia una collaborazione tra la Fondazione Tercas e il COPE, una collaborazione nel terzo settore. In che cosa consiste? Beh, intanto una grande soddisfazione perché noi riteniamo Fondazione Tercas un soggetto che opera sul territorio con grande rilevanza, con grande valore per la crescita, lo sviluppo, per la cultura e soprattutto per il terzo settore. E proprio sul terzo settore ci concentreremo le nostre attività di supporto, di progettazione, di coordinamento e di formazione anche dei soggetti che operano in provincia di Teramo affinché si possa beneficiare qui di nuovi contributi nazionali ed europei a favore di associazioni, di progetti di valore e di sviluppo territoriale. Questa è la motivazione della partnership. Siamo molto onorati che Fondazione abbia scelto Consorzio.Europa e dobbiamo dire che si completa per quanto ci riguarda anche un'operazione regionale perché noi siamo anche il braccio operativo di Fondazione Pescara Abruzzo a Pescara e di Fondazione Cari Spacca all'Aquila. Quindi COPE è scelto dalle tre fondazioni bancarie abruzzesi. È un salto di qualità importante, è un segnale per questo territorio ma anche per l'Abruzzo che in qualche modo si distingue per una cooperazione, la progettazione che è strategica in questa fase.